Una giornata importante perché il Consiglio regionale all'unanimità approva un progetto di legge che secondo me fa da apripista e indirizza quello che deve essere un po' l'attività che ogni regione dovrebbe aiutare a fare, cioè quella di dare un sostegno economico a quelle famiglie, soprattutto quelle che hanno difficoltà economiche e quelle che hanno dei portatori di handicap all'interno della famiglia, economico per le spese veterinarie. È un momento importante perché non abbiamo mai dimostrato e dimostrato che gli animali di affezione sono un sostegno importante e fondamentale per la vita di queste persone e quindi era giusto che la regione prendesse a cuore e facesse di tutto perché si potesse aiutare la convivenza tra questi animali e le persone, tenendo conto che in regione Abruzzo oltre il 52% delle famiglie hanno animali di affezione, quindi sono dati importanti, fondamentali e noi come Consiglio regionale non potevamo non interessarci a questa materia. Vorrei ringraziare in primis i colleghi Mariani e De Renzis che con me hanno firmato e sottoscritto la legge, naturalmente tutti i collaboratori che hanno lavorato a questo progetto di legge e l'intero Consiglio regionale.